scusa ti sto sentendo malissimo c'è troppo casino scusa mandami un messaggio si mandami un messaggio ok ciao il sogno di Gregorio Piga di Mara Calamoni io ricordo sempre Gregorio Piga questo dirigente che aveva il sogno quello di creare una società dialettica leggera purtroppo senti che affetto mi lascia proprio immaginare questo suo sogno non è svanito perchè la società esiste però non è possibile se i ragazzi non potete guardare ma lui ha toccanato la testa veramente intanto un figlio in azione di Mara Calamoni Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti.